Siamo qui con Manuela Gosner, in forza al reparto Corsa e Ram, al Ferrari Challenge in Europe. Siamo qui al Mugello, prima tappa del campeonato, prima tappa in cui corre la nuova 296 Challenge. Dove vogliamo chiedere a Manuela, come ti sembra la nuova macchina e quali differenze ha rispetto alla vecchia 48 Challenge? Beh, già la 488 era un mezzo incredibile che la Ferrari ha costruito, però con questo nuovo modello, la 296, hanno fatto proprio ancora, ogni volta che pensi che non possono migliorare, lo fanno. E hanno creato veramente un mezzo velocissimo con 700 cavalli, però anche molto più racing, perché è molto più vicino alla costruzione racing, più basso, più duro, tutto quanto, quindi per noi piloti è veramente un piacere ogni curva, ogni frenata, accelerata. A 700 cavalli e arriviamo qui al Mugello con 280 chilometri alla prima curva della San Donato. Giriamo con questa vittura qua al Polricar, per esempio, abbiamo girato 3 secondi più forti sul tempo dell'anno scorso, con la vecchia macchina, quindi proprio è un missile, riesce a mettere giù nell'asfalto tutta la potenza che ha un'accelerazione fantastica, una coppia incredibile, incredibile. E ti piace anche come stile di guida, si è adatta bene al tuo stile di guida, è qualcosa che invece magari è proprio un po' meno facile adattarti? Fa molto incontro in realtà a tanti piloti, anche perché è più bassa, è più dura, quindi tutta la piattaforma si muove molto meno e quindi sei sempre incollato all'asfalto, quindi la sensazione è veramente molto piacevole. Bene, parliamo invece del team, è la prima gaza anche del reparto Corseram, con il suo team principal, Giorgio Senar Giorgio, che ha anche il tuo compagno, e quindi volevo chiederti, com'è correre per il tuo compagno un'invita? Per me non cambia poco, perché io sono già abituata a che lui ha un ruolo dove mi dice cosa devo fare. E già ti fa da coach. Già lo conosco, però no, devo dire, sono super super orgogliosa e felice di correre qua col reparto Corseram Giorgio, è veramente, oltre a essere un grandissimo pilota, coach, tutto quanto, adesso ha fatto un'altra, ha preso un'altra avventura e ha creato il suo team e con tutta l'esperienza che ha, è veramente un gioiello di team. Tutte le persone che abbiamo qua proprio ti fanno stare bene, sono i più professionali e è un super onore correre qua per il reparto Corseram Giorgio. Va bene, grazie mille e grazie a tutti voi per averci seguito. Ciao ragazzi, ciao ciao.